salve a tutti ragazzi eccoci qui oggi con un nuovo video come avrete visto ho già aperto la blister di togedemaru e di litten ora non le vedete qui nello sfondo però l'ho già aperte precedentemente oggi andremo ad aprire il blister se si può chiamare così credo di sì il blister di rock craft con la medaglietta di pikachu come al solito ragazzi credo che ora avrò 8 di queste medagliette pikachu e la promo di rock craft che sun moon 0 6 però vabbè ora andiamo ad aprirlo così lo vedete meglio in dettaglio eccolo qua cartoncino che buttiamo pacchetto estraiamo la carta promo senza rovinarla ok ce l'ho fatta e abbiamo eccolo qui rock craft solo promo sun e moon 0 6 la sliviamo subito ragazzi tanto ormai ho le nuove slive quelle che sono trasparenti proprio al massimo qua davanti quindi si vedrà molto con vero eccola qua rock craft promo fantastico questo rock craft lo mettiamo subito qua da sfondo e andiamo a vedere la medaglietta di pikachu anche se già ne avete viste ne avete già viste tante però cioè sono quella quell'altra le due però rivediamo per chi non avesse visto il video eccolo qua abbiamo pikachu che mettiamo qua vicino al rock craft si leggerà si regge che spettacolo vediamolo è tutto nero non si vede nulla così si vede ok abbiamo questo questo pacchetto solo in luna di inch and a roar andiamo subito ad aprirlo che dire si ragazzi abbiamo già perso più di un minuto di tempo andiamo ad aprirlo a un'altra cosa qui come potrete vedere c'è una carta che non è simmetrica con lo sfondo perché questa carta qua ora non ve la sposto voi dovete siccome ho visto che vi è piaciuto nell'altro video dovete indovinare quale carta jumbo c'è qua dietro ragazzi chi vince cioè chi indovina la carta che c'è qua dietro perché lo dirò nel prossimo video nel successivo video oppure ve lo dico io in quale video perché non so se dopo pubblico subito quello lì in cui dirò questa carta comunque indovinate qual è la carta qua scrivete nei commenti quale jumbo secondo voi possa essere questa qui e vediamo chi vince i primi tre che che indovinano vinceranno una carta codice la carta codice la potrete prendere scrivendomi su instagram tanto l'account lo lascio qua in descrizione comunque va bene andiamo ad aprire il pacchetto senza perdere troppo tempo e andiamo a vedere cosa troviamo carta codice facciamo il trick a 4 perché in sole è l'uno da fare il trick a 4 e andiamo con energia non so questo sfondo diverso dal solito ragazzi ho messo anche questo qui con assorbente il tappetino questo video ragazzi è proprio top siccome l'altro video l'avevo fatto un po al volo e tutto di corsa questo l'ho voluto fare un po più decentemente comunque abbiamo di fighter ivi staff all litten malassata maxi reverse e un b ur raro non ho trovato un cavolo niente da fare ragazzi questo blister di rock raffa ci ha dato solamente una malassata maxi che già avevo se non sbaglio quindi non è servito a nulla però niente come al solito abbiamo questa medaglietta di pikachu più il rock raffo lo promo e quindi niente ragazzi indovinate qual è la jumbo lasciate un bel like iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti vi ricordo ancora un'altra volta se ancora non l'abbiate capito che il 5 maggio usciranno il box sole luna guardiani nascenti io ovviamente ne ho comprato un box per portarvelo qua sul canale subito quindi iscrivetevi per vedere quel video che pubblicherò il 5 maggio il 6 quando sarà e niente ragazzi like e subscribe share tutto quello che volete ci vediamo al prossimo video beh saluti da rock raff ciao ciao ciao